Una bocciatura formale che non comporta però, almeno per ora, rilievi sostanziali. La Commissione europea ha presentato i pareri sui documenti programmatici di bilancio 2020 degli Stati membri. Per otto di loro, da monitorare, cresce la preoccupazione in relazione al debito eccessivo e ai mancati aggiustamenti di bilancio. Una zavorra nel cuore dell'eurozona che potrebbe implodere anche perché, secondo Bruxelles, livelli di debito molto alti limitano la capacità di reagire agli shock economici e alle pressioni di mercato. Così, Belgio, Spagna e Francia hanno un rapporto debito-pil molto elevato, pari a quasi il 100%. L'Italia supera il 136% e non ci si aspetta che questi paesi rispettino la regola del debito. Della cattiva compagnia di cui ha reso conto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, fanno parte anche Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia. L'Italia, che ha rischiato più volte la procedura di infrazione, resta sorvegliata speciale. La manovra 2020 passa, ma Bruxelles tornerà a valutare i conti in primavera, perché pone rischi di non rispetto del patto di stabilità e potrebbe perciò portare ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell'obiettivo di medio termine.